Parliamo oggi di desensibilizzazione, cosa parliamo quando diciamo di desensibilizzare un cane o un qualcosa, magari mettete che il cane ha paura di questo foglio, cosa facciamo? Non è che io prendo e gli metto il foglio nel muro o addosso, lo faccio avvicinare subito di brutto, lo immetto nella situazione più sgradevole possibile, no, cosa faccio? Io metto, questo oggetto può essere, magari va dietro le biciclette, magari va dietro le macchine, magari qualsiasi cosa che vale anche come per questo, ma qualsiasi cosa che noi vogliamo cercare che lui si abitui e smetta di avere certi comportamenti verso una determinata cosa. Quindi io porterò, magari a vedere anche un cane, i cani che si incavolano, io porto il mio cane a una distanza tale che a vedere, per esempio, questo foglio, 10 metri, lui abbia già paura, io piglio e me lo porto via premiandolo, poi rivado verso il foglio, faccio un metro in più, anzi, invece di fare un metro in più, guardiamo sempre il cane, il momento in cui vediamo che ha paura o vuole aggredire, per esempio, la ruota della macchina, vuole seguire uno con i pattini, mettiamo appunto lo stimolo a una distanza tale che il nostro cane sappiamo, naturalmente lo vediamo, prendiamo il cane, lo portiamo, ecco, non so, a 10 metri da questo problema e vediamo che il cane fa un piccolo movimento di fastidio, ok? Quindi lo porto via, bravo tanto premio, ma non lo porto via premiandolo, nel senso, hai visto quella, hai paura, ti porto via premio, ma andiamo via premio nel senso che ti stai divertendo con me, fregatene di questa cosa. E così magari lo faccio 5-6 volte cercando di andare un po' più avanti della volta prima, nel senso che se era 10 metri magari facciamo 9,50 metri, poi 9 metri. Dobbiamo arrivare piano piano in un po' di giorni, anche può essere un mese, ci vogliono alcuni cani che hanno così paura, alcuni proprio non riusciremo mai, ci sono alcuni cani fobici che ci vogliono anni e secoli, quindi parliamo comunque di queste cose, un cane, le tempistiche diciamo nella norma, allora il cane a Baia vede una bicicchetta che passa da qui vicino, non gliela facciamo vedere appiccicata, gliela facciamo vedere a una distanza tale che quello non gli porti il problema e lo portiamo via, premio, bravo, fino a ogni volta andare più avanti, tornare bravo, tato ce lo portiamo via, appena alza magari, ok c'è un cane, il cane se lo vedete che si accida un po' alto le orecchie, bravo, tato premio, premio e poi andiamo avanti, il cane rivede la cosa che gli dà un problema, bravo, tato via, fino a che riusciamo ad arrivare a una distanza tale, addirittura ad affiancare o avvicinarci al problema senza che questo gli comporta qualche cosa, quindi ad aver superato in maniera tranquilla e nel tempo facendogli acquisire quelle sicurezze piano piano, secondo me è sempre sbagliato buttare il cane in una situazione dove è terrorizzato, quindi quando si parla di desensibilizzare il cane, lo dobbiamo desensibilizzare a seguire le bici, ad abbaiare a uno che corre, a vedere un altro cane, a paura di un qualche cosa, quindi il fono, per esempio la lucidatrice, premiate la lucidatrice, mettete i premi per terra vicino all'aspirapolvere, alle cose, anche il fono, poi piano piano, comunque mettete il fono da lontano, lo accendete e il cane lo tenete lontano e vi avvicinate a questo rumore piano piano, quindi oggi faccio cinque passe, un metro, dipende, dipende dal cane, non c'è una metratura fissa, ogni cane ha la sua, quindi il mio cane magari per vedere un altro cane ci vogliono, gli dà fastidio a venti metri e ci sono cani che magari il problema lo hanno a 3-4 metri, quindi ogni volta vedo il problema, lo vediamo un po' irrigidirsi, comunque che nota il problema, bravo Tato, premi, premi e ce lo portiamo via, poi di nuovo riandiamo verso il problema, bravo Tato, via, lo premiamo quando giriamo, come per dire, ah bene mi hai ascoltato, ci divertiamo io e te, senza fargli pesare che quello è un problema, ok? Ciao! Grazie! Grazie!